buongiorno a tutti oggi andiamo a vedere l'ultima novità di samsung galaxy watch 5 pro eccolo qui prodotto molto particolare e dall'estetica nuova allora come vedete già il cinturino è un'estetica nuova quindi vado a mettere il cinturino all'interno di questa fessura così tolgo il mio orologio e da qui vedete com'è la chiusura magnetica così quindi questo si sgancia qua si apre si sfila poi si mette qua questo mi permette di regolarlo per qualsiasi polso basta che vado a tirare se sei un gatto metto qua oppa così tac mi trovo sempre la mia misura molto bello anche il polso elegante e allo stesso tempo sportivo ok un'altra novità di questo galaxy watch 5 è la batteria praticamente abbiamo una delle batterie più grandi se non sbaglio sono 580 milliampere che per un orologio è veramente elevato e poi non so se riuscite a vedere come è fatta la ghiera non ha più la ghiera come era sul watch 4 ce l'ho qui vi faccio vedere questo era il watch 4 vedete avevo una ghiera fisica che girava e con questo posso selezionare dietro avanti secondo me era molto più pratica questa soprattutto se penso alle persone che hanno i guanti o le mani sporche o bagnate qui adesso vi faccio vedere come funziona la ghiera non penso siano le stesse cose watch 4 e watch 5 esteticamente sono belli tutti e due questo cinturino qua mi fa impazzire veramente bello ok quindi questo è il nostro orologio andiamo a vedere un attimo se riesco a farvi vedere la ghiera che qui sopra vedete io posso girare e scorro il meno vado con swipe da sinistra da sinistra da destra verso sinistra e posso usare la mia ghiera qui per cambiare il meno non ci sono grosse differenze dal watch 5 il watch 5 pro è particolare perché ha la scocca tutto in titanio quindi molto più resistente e il vetro in zaffiro come il watch 5 la batteria è una dei più grandi quindi parliamo di 580 milliampere significano quattro giorni tranquillamente usandolo normalmente a differenza degli altri che ogni due giorni bisogna ricaricarlo a tutti i nostri sensori che mi permettono anche di fare l'elettrocardiogramma mi permettono di fare la pressione arteriosa lo stress e tutte quelle funzioni che ci servono per le attività fisiche poi per il resto è molto simile a tutti gli altri watch che abbiamo quindi quest'anno samsung si è concentrato soprattutto sulla batteria sul processore che ha dentro che più veloce andiamo a cambiare display vediamo un display magari vedete che bello dettagliato che è e posso andare a personalizzare tutti i display con dall'applicazione possono personalizzarli un bello orologio elegante sportivo allo stesso tempo con i tasti fisici ok se il video vi è piaciuto mettete un like iscrivetevi al canale e attivate il tasto di notifiche grazie a tutti